Allora ragazzi siamo in questo campeggio dove abbiamo dormito stanotte e niente ci siamo svegliati le 9 sono più o meno le 11 e mezza adesso ci prepariamo e andiamo via Grazie a tutti Allora siamo finalmente a Stjordal e l'altro campeggio era una paccata assurda e abbiamo trovato questo sul navigatore della Renault ed è proprio sul lago è una figata tra l'altro è appena uscito un tipo con un vecchio Volvo ma che bello e niente adesso aspettiamo magari se c'è un posto ma dovrebbe essercene dai Ragazzi si è appena scoperto che è tipo un mega raduno, mega no però ce ne sono abbastanza Volvo ce ne saranno una trentina è un'attività è un'attività Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.